benvenuti sul canale youtube di sinistra classe rivoluzione io sono alessio di sinistra classe rivoluzione roma dedichiamo lo streaming di questo venerdì alla situazione di un paese di cui generalmente si parla molto poco il portogallo di cui però si parla di più da quando c'è stata nel 2015 la formazione di un governo di sinistra di cui c'è ora in questa legislatura a partire dalle elezioni del 2019 una riedizione in forme e modi diversi che andremo a vedere il video viene realizzato con il contributo fondamentale del collettivo marxista dell'isboa la sezione portoghese della tendenza marxista internazionale di cui invito a guardare la pagina facebook che è aggiornata con articoli di teoria marxista e sulle mobilitazioni che ci sono particolarmente nella città di lisbona alle elezioni del 2015 in portogallo abbiamo assistito alla crescita del voto ai partiti di sinistra quelli più tradizionali come il partito socialista e il partito comunista ma anche il blocco d'escherda una formazione più recente che riunisce settori della sinistra più radicale verde e ambientalista questo voto ai partiti di sinistra era un chiaro tentativo di trovare una via di cambiamento da parte del movimento operaio in portogallo dopo tre anni da 2011 a 2014 dove erano state applicate delle feroci politiche di austerità il portogallo era uscito dal mercato dell'unione europea aveva ricevuto un prestito di 78 miliardi di euro da parte della commissione europea per ripagare il quale sono stati portati avanti dei tagli drastici allo stato sociale in particolar modo alla scuola e alla sanità e un peggioramento delle condizioni di vita e di lavoro di milioni di persone che ha costretto in molti casi anche decine di migliaia di lavoratori a dover emigrare dal portogallo ora il governo che si forma nel 2015 è guidato dai socialisti all'appoggio esterno del partito comunista portoghese e del blocco d'escherda che firmano con con i socialisti un accordo scritto l'elemento fondamentale che garantisce una stabilità a questo governo è la crescita economica a cui si assiste in portogallo negli anni tra il 2015 e il 2019 una crescita economica che da un lato è fisiologica come rimbalzo dopo la crisi che c'era stata nei tre anni precedenti e dall'altro lato è trainata dall'export in alcuni settori fondamentali dell'economia portoghese come l'olio e il settore alimentare in generale e un boom del turismo una crescita economica che nel 2019 solo per fornire un dato raggiunge l'8,7 per cento del pil e che quindi assicura una certa stabilità all'azione del governo non senza delle contraddizioni perché ad esempio la crescita enorme del turismo porta ad una svendita del patrimonio immobiliare a grandi investitori stranieri che sono a caccia di appartamenti per bnb o per assicurare degli alloggi ai turisti che cominciano ad affluire in massa in quegli anni in portogallo per visitare il paese o proprio per venire a viverci. Le elezioni che ci sono lo scorso anno nel 2019 hanno un andamento leggermente diverso da quello che noi abbiamo visto nel 2015. C'è sì una crescita dei socialisti che hanno 20 seggi in più anche per via del fatto che c'è una forte crescita dell'astenzione, parallelamente c'è un calo degli altri due partiti di sinistra, il partito comunista e il blocco d'escherda. Questo porta al fatto che i socialisti non si rendono disponibili a firmare un nuovo accordo scritto con il partito comunista e con il blocco d'escherda e c'è un cambiamento. I socialisti in questa legislatura chiedono i voti a tutti i partiti dell'arco parlamentare che abbiano una qualche sensibilità sociale. Ai socialisti mancano 10 seggi per poter governare da solo e ogni volta chiedono i voti in Parlamento ai partiti disponibili ad appoggiare i suoi provvedimenti. Questi voti non vengono più chiesti come era nella precedente legislatura soltanto alla sinistra. In alcuni casi abbiamo visto anche il partito social democratico, il partito tradizionale di centrodestra in Portogallo che adesso ha una posizione più centrista, appoggiare alcune leggi del governo socialista. In questo momento in Parlamento per chiudere la panoramica sulla destra ci sono due partiti come la Scega e Iniziativa Liberale che sono due partiti di destra e in particolare il primo, la Scega, è un partito con aperte e chiare simpatie fasciste la cui è entrata in Parlamento per la prima volta dal crollo della dittatura nel 74, ha destato un certo scalpore all'interno della società portoghese. Ora, perché alle elezioni del 2019 i partiti di sinistra sono calati? Perché il bilancio che evidentemente i lavoratori e i giovani hanno tratto del governo guidato dai socialisti con l'appoggio esterno della sinistra nel periodo tra il 2015 e il 2019 questo bilancio non è stato del tutto positivo. Alle elezioni del 2019 infatti abbiamo visto una fortissima astensione soprattutto tra i giovani dell'81% e anche l'assenzione generale è stata del 51% molto alta. Si veniva da anni di austerità che avevano appunto distrutto una generazione i salari dei lavoratori e le condizioni di vita dei disoccupati e dei giovani. C'è stata poi tra il 2015 e il 2019 la presenza di un governo di sinistra durante un periodo di forte crescita economica. Sono cresciuti molto i profitti però sono aumentati in maniera irrisoria i salari dei lavoratori e sono migliorati in maniera del tutto insufficiente le condizioni di vita delle masse. E questo ha determinato il fatto che alle elezioni che ci sono state nel 2019 il partito comunista portoghese e il blocco di scherda abbiano perso voti e l'abbiano persi questi voti soprattutto nelle due principali città portoghesi, le città più operaie, Porto e Lisbona. Lisbona dove particolarmente c'erano state delle lotte tra i lavoratori portuali. Il governo socialista quindi nonostante la crescita economica non ha portato avanti miglioramenti significativi nelle condizioni di vita e di lavoro delle masse e si è limitato a reintrodurre in minima parte quanto era stato tolto negli anni dell'austerità e addirittura con il nuovo diritto del lavoro ha esteso i periodi di prova e quindi la precarietà per i giovani. Ora ci troviamo di fronte ad un nuovo cambiamento nella situazione economica e sociale determinato dalla pandemia con lo stato d'emergenza dichiarato il 13 marzo. L'emergenza sanitaria ora in Portogallo si sta estendendo molto particolarmente nelle periferie di Lisbona e nelle fabbriche e ha fatto venire a galla tutte le contraddizioni in atto e sgonfiato il mito del miracolo economico portoghese. Di fatto nel 2020 anche con una previsione molto ottimistica ci sarà un calo del PIL del 7%, il tasso di disoccupazione tornerà al 10% e solo per fornire un dato tra aprile e marzo di quest'anno è aumentato del 14% il numero dei disoccupati iscritti al centro per l'impiego. C'è un peggioramento delle condizioni di vita di nuovo delle masse in Portogallo e questo si vede particolarmente nei settori più deboli della società. Tra gli immigrati durante lo stato di emergenza sono emersi diversi focolai di covid-19 nelle pensioni sovraffollate dove vivono migliaia di immigrati e rifugiati. C'è stato il caso di Lisbona con 50 contagiati e rispetto all'immigrazione si è parlato molto anche in Italia di un provvedimento del governo del 27 marzo che ha esteso fino al 30 giugno l'accesso alla sanità e al welfare a chi agli immigrati che prima del 18 marzo avessero inoltrato una richiesta di permesso di soggiorno alla polizia di frontiera portoghese. Ora in Portogallo come in diversi altri paesi per richiedere un permesso di soggiorno per motivi di lavoro è necessario essere entrati legalmente nel paese ed avere un contratto o una promessa di impiego oppure essere entrati in modo irregolare ma dimostrare di aver lavorato e versato contributi per almeno un anno nel periodo precedente alla richiesta. Ora si è molto parlato del fatto che appunto fino al 30 giugno gli immigrati avranno accesso ai servizi sociali però poco si è detto quasi nulla di quello che succederà dal primo luglio quando la polizia di frontiera ricomincerà a fissare gli appuntamenti con chi ha fatto richiesta del permesso di soggiorno ma molti nel frattempo avranno perso il lavoro per via della crisi economica particolarmente in un paese come il Portogallo dove tanti lavorano praticamente in condizioni di caporalato nella raccolta delle olive che è il settore trainante del paese per cui di fatto dal primo luglio tantissimi immigrati si troveranno di nuovo ad essere irregolari. Anche la situazione rispetto al diritto alla casa ha molti punti oscuri il governo ha decretato il blocco degli sfratti fino al 30 settembre però non è dato sapere dopo che cosa succederà in un paese dove come si diceva prima la crescita del turismo ha fatto schizzare alle stelle il prezzo degli affitti i compagni del collettivo marxista di Lisboa partecipano a tutte le mobilitazioni per il diritto alla casa con delle rivendicazioni come quella di cancellare i canoni di affitto per chi non è in grado di pagare vietare alle banche di capitalizzare ancora più interessi durante la crisi economica cancellare ogni nuovo debito generato dalla sospensione degli affitti e dei crediti bancari e la requisizione di tutte le case sfitte che vengono lasciate vuote per aumentare la speculazione immobiliare rispetto alla situazione della sinistra e del movimento operaio come si diceva il partito comunista portoghese il blocco d'esquerda non hanno più un accordo scritto di appoggio esterno al governo dei socialisti come era nel 2015 il governo con lo stato d'emergenza ha sospeso il diritto di sciopero nei servizi essenziali e anche in quelli ritenuti strategici per l'economia a questo decreto il blocco d'esquerda ha addirittura votato a favore il partito comunista portoghese si è limitato ad astenersi e i sindacati si sono dichiarati i contrari c'è ora una grande demagogia da parte del governo socialista sul fatto che anche durante l'emergenza sanitaria non siano stati sospesi i diritti democratici alla CGTP al sindacato è stato permesso di fare la tradizionale manifestazione del primo maggio che si fa alla piazza della Lameda a Lisbona tutti distanziati e in sicurezza e il partito comunista portoghese probabilmente farà la festa dell'avante nel mese di settembre è chiaro però che la sinistra e i sindacati portoghesi in questo momento si trovano in una situazione di difficoltà non c'è più l'accordo scritto col governo non c'è l'appoggio esterno però c'è la necessità di portare avanti delle iniziative anche delle iniziative di mobilitazione rispetto al fatto che c'è un governo guidato dai socialisti che sta facendo pagare ai lavoratori e ai giovani la crisi economica il partito comunista portoghese ha perso consensi di fatto ha preso una batosta alle ultime elezioni ed ora sembra come essere a metà strada ha evidentemente delle difficoltà organizzative che sono anche testimoniate dal fatto che il giornale del partito Lavante ha lanciato una campagna di 5.000 nuovi reclutamenti particolarmente tra i lavoratori tra i quali tra i lavoratori nel movimento operaio in Portogallo c'è evidentemente in questo momento una spinta un'ambizione a trovare una strada per combattere la crisi economica con la recessione molte imprese hanno chiuso ho diminuito drasticamente il lavoro particolarmente nel turismo e cercare anche di dare una smossa a quello che è un po' un impianto burocratico della CGTP che fatica in alcuni casi ad assecondare appieno la spinta alla mobilitazione che c'è da parte dei lavoratori che ha portato in molti settori particolarmente tra gli insegnanti gli infermieri e il settore medico che erano stati i protagonisti degli scioperi nel pubblico impiego che c'erano stati tra il 2015 tra il 2011 e il 2014 ha portato tra questi settori anche tra i lavoratori portuali e gli autisti di materiale pericoloso ad una forte spinta alla crescita o al protagonismo dei sindacati di base che è evidentemente significativo del fatto che c'è la volontà da parte di alcuni settori della classe operaia portoghese di portare avanti delle mobilitazioni più incisive rispetto a quelle che vengono convocate dalla CGTP c'è anche una crescita delle mobilitazioni tra i lavoratori dei call center che hanno ingaggiato un corpo a corpo con le imprese che non volevano concedere il lavoro da casa anche nel periodo di più forte recrudescenza dell'emergenza sanitaria e anche qui c'è una crescita della spinta alla sindacalizzazione e anche alla formazione dei sindacati di base ora, il bilancio di questi dieci anni in Portogallo è che un vero governo di sinistra che portasse avanti dei miglioramenti nelle condizioni di vita delle masse non c'è stato però ci sono tutte le potenzialità per poterlo creare in futuro sulla base dell'elaborazione di un programma per combattere la crisi economica e unire i diversi settori in lotta a partire da alcune rivendicazioni come no alle controriforme del diritto sul lavoro il blocco dei licenziamenti il blocco degli sfratti un salario minimo adeguato l'equo canone che possa far uscire da una condizione di ricattabilità da parte delle grandi agenzie immobiliari il premesso di soggiorno e il pieno accesso a diritti sociali per tutti gli immigrati pensiamo che soltanto sulla base di questo programma in Portogallo possa esserci nel prossimo futuro un vero governo di sinistra che porti avanti dei miglioramenti nelle condizioni di vita delle masse attenzione a partire